bello ragazzi e benvenuti sul mio canale oggi vi sentite mangi il cartino blog ipercop matira ben uso oggi andrò a matira e vi porterò con me ragazzi ora ci vediamo in strada anzi direttamente al garage per prendere la macchina due ragazzi sto nel garage questa macchina da ora vi faccio vedere tutta la strada fino a arrivare a destinazione a presto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.